Le Corbusier è incredibilmente importante nella storia dell'architettura del ventesimo secolo. Il concetto di casa va di pari passo con quello di mobili, è il total look, come si dice il mondo della moda. Le Corbusier è un punto fermo nell'architettura e nell'urbanistica, è stato largamente imitato ma con pessimi risultati. La parte design è il contrario, è straordinariamente interessante. Là c'è la vera intuizione. Quanto durerà questo stato di grazia di questi mobili che continuano ad essere contemporanei mentre il calendario scorre? Questo gap in avanti che tengono dentro, che gli consente di camminare davanti al tempo. Grazie a tutti. La sua ultima bracciata fu verso la linea retta che si stende come l'orizzonte del mare. È morto così Le Corbusier, misurando col braccio teso la distanza tra l'uomo e l'infinito. La sua ultima braccia è stata l'asile estivali di un batticatore di geni. Non c'è il nome di un bambino che si stava da ogni giorno durante l'interno. Lorsqu'il è mort terrassato per una crisi cardiaque su questa plage del Cap Martin, si è stato il bambino di un bambino tranquillo. C'è il Corbusier, il magicien di l'architectura. C'è nel bambino, in 1945, che ha preparato il ha fatto la città radia di Marseille. Le Corbusier, c'était in qualche sorte le Léonard de Vinci du XXe siècle, visionnaire e humaniste come lui, ma anche un constructeur passionné. Son église de Notre-Dame-du-Haut, a Ronchamp, c'était una verità prière, una specie di miracle di la lumière e la foi. La dernière grande realisation del Corbusier, c'est Chandigarh, questa ville indiana née di son geni. C'è il chef d'oeuvre di celui che fu a la fois un architecte, un urbanista, un decoratore e anche un poeta e un peintre. Un homme hors du commun. Le Corbusier ha 78 anni quando muore. Poco meno di vent'anni prima, aveva disegnato il modulor, il sistema di misura con al centro l'uomo, dove l'architettura, come la musica, è tempo e spazio. Il tempo è il 27 agosto 1965. Lo spazio è Roquebrune, Cap Martin. È una giornata di sole e cielo blu, il profumo di rosmarino e di mirto nell'aria. Le Corbusier scompare nel Mediterraneo che ama. Il medico glielo aveva proibito, ma in tarda mattinata Corbusier decide di prendersi una pausa e lascia il cabanon, il capanno di legno sul promontorio, il suo castello, lo chiama, dove scrive, disegna e progetta. È sepolto qui, in costa azzurra, insieme alla moglie Yvonne, a pochi chilometri dal confine italiano. Le Corbusier ha sempre avuto una sorta di attrazione fatale per il mare. Io credo che per lui il mare sia stato un orizzonte molto fecondo e nello stesso tempo la sua frequentazione del mare è stata anche qualcosa di intimo. Soprattutto l'estate, un amore per il litorale, per la costa sulla quale, sappiamo, fotografava le impronte. Il mare, per uno nato in Svizzera nel 1887, a La Chaux des Fonds, paese degli orologi, è la conquista, l'approdo. La linea retta, scrive nel 65, che abbraccia l'asse delle leggi fondamentali, biologia, natura, cosmo. Questi sono alcuni frammenti delle 18 bobine da 15 metri, girate dalle Corbusier, con una cinepresa a 16 mm, acquistata nel 1936. Qui filma la mamma nella casa a lago a Corso, che ha progettato per ospitare i vecchi giorni dei genitori, dopo una vita di fatica. Sua madre vive lì fino alla morte, nel 1960, a 101 anni. Immagini in movimento e scatti sulla spiaggia di Arcachon, sull'Atlantico. Ho un debole per le conchiglie fin da quando ero bambino, scrive Le Corbusier. Non c'è niente di più bello di una conchiglia che si basa sulla legge dell'armonia e su un'idea molto semplice. Si sviluppa in una spirale o si irradia, all'interno o all'esterno. Questi oggetti si possono trovare ovunque. Il punto è vederli, osservarli. Essi riassumono le leggi della natura e offrono il migliore insegnamento. Potrebbe essere la semplice descrizione dei mobili che Le Corbusier ha disegnato nella sua vita, dove la forma è sempre legata alla funzione, come in natura. E la natura si accompagna in Le Corbusier al culto della scoperta e quindi del viaggio. Viaggia fin da ragazzo Le Corbusier, moltissimo in nave. Nutre una vera passione per i transatlantici, le grandi navi bianche che ispirano molte sue teorie architettoniche. Ma si sposta anche in aereo e persino in dirigibile. Nel 1936 è lui stesso a filmare uno degli ultimi Graf Zeppelin che coprono la tratta tra Europa e Brasile. Abbandona presto gli studi per frequentare la scuola di arti decorative. A vent'anni già progetta e arreda la sua prima casa. Con i soldi guadagnati parte per l'Italia, un modo per studiare l'arte e l'architettura dal vero. Quel viaggio fu molto importante per lui. Penso che si sia immerso in una dimensione edonista. Scoprì il clima, il calore italiano e allo stesso tempo si imbatte in edifici che si rivelarono in seguito determinanti per la sua riflessione sull'abitazione. In particolare la certosa di Valdema a Galluzzo, vicino a Firenze. La scoperta dell'arte e anche di un'architettura diversa. Firenze, Siena, Pisa, Venezia. Si chiama ancora Charles-Edouard Jean-Ré quando arriva per la prima volta in Italia nel 1907. Disegna, scrive, raccoglie la luce e le ombre dei monumenti. Torna altre 16 volte. Tenta di proporsi a Mussolini come architetto di Pontinia, ma non se ne fa nulla. Come nulla accade per il progetto del centro di calcolo elettronico Olivetti a Rau e per il nuovo ospedale di Venezia. Il rapporto di Le Corbusier con l'Italia rischia di rimanere nei cahiers de voyage e nei plastici impolverati. Ma nel 1964 accade qualcosa. Le Corbusier decide di affidare all'Italia una piccola grande eredità del suo lavoro. Lascia a Cassina, azienda che ha già 37 anni di storia alle spalle, il diritto di riedizione dei mobili che ha disegnato con Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand. E già nel 1965, 50 anni fa, Cassina inizia a produrre i primi pezzi di quella che diventerà la collezione LC e fa conoscere al mondo un tesoro dimenticato. Ernesto Nathan Rogers, all'evento di presentazione del 65, descrive questa collezione come patrimonio attuale di cui fare uso pratico e quotidiana consumazione intellettuale. È dopo la guerra e dopo la sua morte che è diventato un gran designer ed è soprattutto merito di Cassina se i quattro mobili classici in acciaio hanno riscosso un successo mondiale. Artur Ruegge è uno storico dell'arredamento e ha dedicato anni di studio ai mobili di Le Corbusier. Ne ha classificati più di 300 ed è stato il primo a trattare in modo globale quello che Le Corbusier ha immaginato per l'arredo d'interno. Lui all'inizio non era un architetto ma un incisore cesellatore. Anche a scuola si è concentrato sulla Gesang-Kunstwerk, l'opera d'arte totale. Poi ha lavorato su un tipo di produzione normale ma sempre con quel filo conduttore che arriva fino alla sua morte. È questo che mi interessa evidenziare, un'idea di continuità attraverso la storia. Ci sono parecchie posizioni di Le Corbusier rispetto alla questione della forma. Sempre nella ricerca di una continuità tra la scala microscopica dei mobili e degli oggetti e quella del paesaggio. La storia da qui in poi va raccontata come la straordinarietà di una serie di incontri. Quello tra Le Corbusier e Pierre-Jean Ray, quello tra Le Corbusier, Pierre-Jean Ray e Charlotte Perriand. E per finire, quello fra i tre architetti designer e una famiglia di artigiani della Brianza, i Cassina, che negli anni del miracolo economico italiano diventano la famiglia design. Mio padre aveva già lavorato col massimo degli architetti italiani. E mi ha detto, faremo Le Corbusier. E io che non sapevo nulla, gli dico, ma chi è? Facciamo ora un salto indietro. Partiamo dall'incontro tra Le Corbusier, Pierre-Jean Ray e Charlotte Perriand. Nati a cavallo del Novecento, eccoli tutti e tre fissati in un gesto contemporaneo, sorprendenti per l'uso moderno che fanno del corpo. Lo usano già allora per comunicare. Pierre-Jean Ray potrebbe avere un laptop tra le mani. Charlotte Perriand, la schiena nuda e le braccia al cielo, in un gesto di libertà conquistata. Le Corbusier, arrampicato su un albero, guarda al futuro. Charles-Édouard Jean Ray Gris, vero nome di Le Corbusier, nel XVII lascia la Svizzera e va a vivere a Parigi. Conosce Braque, Jean Gris, Picasso, Lichitz, Léger. E comincia a dipingere. Arte pura e rigorosa, via ogni decorazione. Gli obietti Ip, semplificati ed essenziali, si avvicinano alla tecnica del disegno industriale. I colori li ritroveremo nei suoi mobili. Con il pittore Amédée aux enfants, fonda la rivista L'Esprit Nouveau, dove promuove le sue teorie sull'arte, firmando gli articoli di architettura con lo pseudonimo con cui è conosciuto in tutto il mondo. Intorno a questa rivista c'era un'energia incredibile, uno spirito di rinnovamento delle arti, discussioni intellettuali, un club di fedeli che acquistavano anche i quadri. Era grazie a questa rivista che Le Corbusier poteva quasi vendere la sua filosofia estetica a persone che volevano un Le Corbusier, come oggi si vuole, un Herzog et de Meuron o un Guéry. Si considerava lui stesso un artista. Il suo ideale era Picasso. Non si è mai considerato solo architetto. Tutto ciò che faceva era una pratica artistica e plastica che si esprimeva in forme diverse. Io ho un peccato capitale, di essere assujetti a cose visuelli, ho gli occhi, tutto ciò che è visuelli, cioè il dessin, la peintura, la scultura, l'architettura, per me non è solo un fenomeno, non è solo una sinfonia. Pierre Jean Ré è cugino di Le Corbusier e suo socio dal 1922. Insieme all'Esposizione internazionale di Parigi del 1925 presentano il Pavillon de l'Esprit Nouveau, un manifesto contro l'arte decorativa. Il mondo sta cambiando, e così le esigenze dell'uomo. Propongono una scatola geometrica bianca attraversata al centro da un albero. È l'unità minima standard di un nuovo paesaggio urbano. Cassinat ha collaborato nel 1977 alla realizzazione e alla ricostruzione del Pavillon de l'Esprit Nouveau a Bologna, realizzando i casier standard. Il Pavillon de l'Esprit Nouveau del 1925 è stato un momento fondamentale nella teoria degli interni di Le Corbusier, perché ha proprio suddiviso il mondo delle attrezzature domestiche in oggetti contenitori e oggetti sostenitori. Gli oggetti contenitori erano appunto i casier standard. A Parigi, il padiglione desta scandalo. Il giorno dell'inaugurazione viene chiuso al pubblico. Jean Ray e Le Corbusier da quel momento saranno complici e complementari fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, come racconta Charlotte Perriand, che nello studio arriva due anni più tardi, nel 1927. Le Corbusier, c'était l'homme di comunicazione, c'était l'homme complet, c'était il filosofo, c'è delle cose. Jean Ray, c'était un peu son membre, c'était l'homme technique, c'était l'homme différent vis-à-vis de son cousin, de Le Corbusier. Mais, pour moi, ils étaient absolument nécessaires l'un à l'autre. C'était vraiment une osmose, tous les deux. L'un venait toute la journée, c'était Pierre Jean Ray. Et Corbusier ne venait que l'après-midi, car le matin, il faisait sa peinture. Et il écrivait. Pour lui, sa peinture, c'était l'art plastique, en quelque sorte. C'était la plasticità des choses. Et il comptait autant que l'architecture, sinon plus, quelquefois. Le Corbusier aveva bisogno di suo cugino. Lui correva senza requie in giro per il mondo oppure dipingeva in atelier. Quindi il suo rapporto con lo studio non gli permetteva di seguire quotidianamente i suoi progetti. E questo era appunto il compito di Pierre Jean Ray. Pierre era il custode dello studio e organizzava il lavoro di tutti. Charlotte Perriand ha solo 24 anni quando bussa allo studio di Rue de Sèvres 35. È rimasta colpita dalla lettura di Vert une architecture, raccolta di saggi di Le Corbusier. Charlotte è già un'arredatrice di talento che gode di discreto successo. Al salone d'autunno del 27 ha presentato il bar sur les toits dove ha proposto l'arredo razionale e pratico della sua casa atelier di Saint-Sulpice. Molta luce, un'idea dell'abitare conviviale, libero e rilassato. La grande novità del bar sur les toits è che è costruito in rame nichelato e alluminio anodizzato. È la Perriand stessa, filmata da Jacques Barsac, il marito della figlia Pernet a raccontare l'incontro di Le Corbusier e Pierre Jeanret. Io non ero certo timida, sono andata da Le Corbusier ma lui non c'era, c'era suo cugino Pierre Jeanret che mi ha chiesto cosa volessi, gli ho detto è personale, mi ha detto di ritornare. Torno e Le Corbusier mi ha ricevuta. Io avevo la cartella con vari progetti sotto braccio, ero una ragazza che dimostrava 16-18 anni e dopo avermi ascoltata mi ha detto signorina qui non ricamiamo cuscini non potevo far altro che andarmene ma gli ho detto che esponevo e se avesse cambiato idea gli ho dato l'indirizzo del mio stand al Salon d'Autom due giorni dopo Pierre Jeanret mi ha chiamato per dirmi che Le Corbusier mi voleva come collaboratore per l'Equipement de Maison sono nata una seconda volta nel suo studio veramente non ce l'ho franchement mobili futuri per i quali disegna silhouette con uomini e donne seduti in varie maniere si rende conto a partire dai nove modi di sedersi che aveva definito che Charlotte ha già disegnato quattro di questi mobili che corrispondono esattamente a queste posizioni ed è per questo che le propone di lavorare insieme con lui si dice che Charlotte Perriand abbia fatto per i mobili quello che Coco Chanel ha fatto per i vestiti una rivoluzione la prima dell'idea di femminilità la seconda dell'abitare entrambe mettono al centro il corpo come Le Corbusier Parigi è capitale di tutte le avanguardie inquieta libera e scandalosa Charlotte è figlia del suo tempo e ha la fortuna di avere una madre emancipata il fatto di essere stata levata da una madre severa ma che aveva sempre lavorato che le diceva sempre la tua libertà è nel lavoro ha portato Charlotte ad essere una donna libera e lavoratrice mi ripeteva se sei la prima nel lavoro sarei sempre rispettata a Charlotte piacciono le sfide è una donna sportiva appassionata di montagna mi diceva sempre per net non ti devi fermare in basso devi andare sempre fino in cima eccoli quindi Charlotte Perriand Pierre Jean Ray e Le Corbusier nei dieci anni che passano insieme danno vita a quella che diventerà la collezione LC oltre 20 modelli ora classici del design contemporaneo ma prima di diventarlo prima dell'incontro con Cassina c'è un'altra storia da raccontare era simbolo di progresso negli anni venti il tubolare di metallo nato per i telai delle bici e delle auto entra come elemento di modernità negli arredi in tanti da Eileen Gray a Miss Van Der Rohe da Marstam alla Bauhaus hanno cominciato ad usarlo nei loro progetti e così la Perriand al bar sulle toit nel 1927 la situazione è la seguente Le Corbusier è un grandissimo architetto famoso in tutto il mondo parla d'anni di rivoluzione nell'arredamento tuttavia non ha ancora creato mobili in metal chi se trouve donc Charlotte Perriand è esattamente la persona che cerca sa a chi farli fuori è in grado di concepire e progettare mobili ed è pronta a lavorare con lui a venire a travailler con lui due anni dopo nel 1929 Le Corbusier Pierre Jean Ray e Charlotte Perriand presentano al Salon d'Autom l'equipement interieur di un'abitazione ci sono i mobili che diventeranno parte della collezione LC di Cassina tra cui le fauteuil Gran Confort Gran e Petit Modèl la chaise a dossier basculant la chaise longue a reglage continu e la table tube d'avion a section ovoide nello spazio allestito ci sono anche i mobili disegnati in precedenza da Charlotte Perriand la siège e il tabouret tournant e la siège salle de bain questi mobili erano completamente in osmosi con l'architettura di Le Corbusier Charlotte le ha dato una dimensione un po' più umana se prendiamo ad esempio il Salon d'Oton del 1929 ci sono pellicce tessuti cuoio c'è una sensualità straordinaria e una contrapposizione di materiali che invogliano ad abitare il luogo che arredano Charlotte ha indubbiamente introdotto un elemento di sensualità la sensualità è l'azienda austriaca Toné a tentare una prima produzione di alcuni dei mobili appena presentati al salone ma è ancora una produzione troppo artigianale Toné ha molto presto incontrato delle difficoltà soprattutto con i famosi gomiti che i fabbricanti avevano difficoltà a realizzare senza rompere il tubo questo giocava contro questi modelli il desiderio di Le Corbusier era quello di costruire in serie aveva capito che in questo modo si poteva risparmiare ed è per questo che era sempre alla ricerca di uno standard là c'è la vera intuizione vale a dire il primo mobile prodotto in serie ridotto al minimo libero da ogni decorazione nella migliore tradizione industriale come gli architetti sanno fare sono arrivati all'essenza sono stati come dei politici sono andati all'essenza della cosa per cui si può dire che è un mobile politico riuscito in un quadro di fallimento generale di cui non sono responsabili ma che continua in altre parole hanno lavorato con intelligenza nella realizzazione di mobili per tutti che non sono mai stati per tutti non c'è mai stata una produzione di massa è sempre stata una produzione di mobili per elite molto cari su commissione e in nessun caso è stato raggiunto lo scopo neocomunista e magnifico che si celava dietro quel tipo di design sfortunatamente spesso capitava che l'industria di allora non fosse all'altezza delle richieste di Le Corbusier finché Cassina non si fece carico della produzione i suoi mobili continuarono ad essere costruiti in maniera artigianale a festeggiare il successo del salone del 29 manca Le Corbusier è partito per un ciclo di conferenze in Sud America torna a esposizione finita dopo un viaggio sulla nave che lo riporta da Rio a Bordeaux in compagnia di Josephine Bacquer da cui rimane affascinato scivola sulle asperità della vita scrive alla madre a buon cuore la naturalezza più miracolosa che si possa immaginare l'enigmatica relazione con Josephine Bacquer per me non è stata una relazione sessuale ma un rapporto di seduzione reciproca penso non debba essere troppo mitizzato ma è chiaro che Le Corbusier amava le donne come oggetto sessuale le amava come compagne e da loro è stato molto attratto l'anno seguente l'anno seguente le Corbusier che ha 43 anni conosce e sposa Yvonne Galli una ex indossatrice che rimane con lui tutta la vita dal 1934 andranno a vivere nel sedicesimo arrondissement in un appartamento da lui progettato e qui ogni mattina con una camicia a scacchi Le Corbusier dipinge vuole luce naturale e una parete di pietra grezza davanti a sé anche in queste stanze ritroviamo mobili che ora sono parte della collezione lc di Cassina il canapè e la table piecoroll era sua moglie Yvonne che comandava e per lei era importante avere un divano lo montarono nel 1934 e Yvonne era molto felice diceva ora tutto ha preso un herpe per un'aria familiare ora abbiamo un vero appartamento ed è per questo che lo decorava con tutti quei fiori che le fasi tutte le fleure Cordue era molto contento c'è il sentimento che l'œuf dell'oggi era il templo della famiglia e che c'era qualcosa di grande a tentare da questo c'è che c'era una grande parte del buonore Yvonne Yvonne Le Corbusier a cui il divano piaceva così tanto non amava però il tavolo diceva che sembrava da macelleria era freddo ora Cassina lo produce in serie è l'LC 11p il tavolo però è rimasto mentre il letto un letto molto alto ispirato un po' all'antichità con il poggiatesta in legno beh del letto è riuscita a far segare le gambe per renderlo più basso Le Corbusier l'aveva fatto per vedere il panorama fuori ma era difficile salirci e perciò Yvonne l'aveva fatto abbassare nel 1959 i diritti di produzione degli arredi del 29 passano a Heidi Weber gallerista svizzera amica di Le Corbusier che però non ha la forza produttiva e commerciale per dare vita a una vera e propria collezione di arredi industriali Heidi Weber non ha mai visto gli originali tuttavia ha apportato qualche trasformazione per esempio fu lei a introdurre il cromato in tutti i modelli insieme a Corbusier che era d'accordo è a questo punto nel 1964 che l'avventura della collezione LC piena di incontri di voglia di leggere il futuro di esprit nouveau appunto incrocia la storia di Cassina la figli di Amedeo Cassina era nata nel 1927 come azienda specializzata nella lavorazione del legno per la produzione di tavolini i due fratelli Cesare e Umberto eredi di una lunga tradizione artigiana sono giovani pieni di idee e di voglia di fare hanno il pallino dell'automazione investono i nuovi impianti e cominciano a realizzare sedie imbottiti e tavoli alla fine della guerra l'azienda fa un salto di qualità e di dimensioni con una commessa di forniture per transatlantici per progettare mobili moderni Cesare chiama architetti e designer nomi importanti da Franco Albini il primo a Gio Ponti che firma per Cassina la sedia 699 superleggera e ne testa la resistenza lanciandola dalla finestra del primo piano della casa a fabbrica a bottega poi arrivano Angelo Mangiarotti Vico Magistretti Tobia Scarpa e Gianfranco Frattini ed è proprio per la qualità dei prodotti e la capacità industriale che Le Corbusier sceglie Cassina per produrre i suoi mobili su questo tavolo c'è un piccolo estratto del materiale di archivio l'archivio Cassina ha una funzione molto importante sicuramente conservare la memoria di tutti i prodotti ma ha una finalità sicuramente operativa quindi non solo di conservazione ma anche di utilizzo del materiale stesso questa lettera è molto interessante perché parla anzitutto di altri concorrenti che erano interessati alla collezione a questi modelli di Le Corbusier ma dice appunto nessuna trattativa seria Heidi Weber ci ha detto che Le Corbusier deve entrare in un catalogo qualificato accanto a mobili scelti e questa è stata proprio la ragione per la quale alla fine è stata scelta Cassina Cesare Cassina da anni inseguiva il sogno di portare la modernità in azienda l'occasione si presenta durante uno dei frequenti scambi di idee con Dino Gavina l'intellettuale del mobile l'imprenditore che aveva introdotto Cesare al mondo degli artisti e della cultura l'uomo che aveva chiesto a Marcel Breuer architetto del Bauhaus di rimettere in produzione la Vassili e la Cesca mio padre era diventato amico di Gavina e noi qui in Brianza non capivamo perché perché era strano era controcorrente che due imprenditori si confrontassero si vedessero e da Gavina in quei tempi là era una specie di Arcadia del design arrivavano tutti i giovani architetti che poi sarebbero diventati famosi mio padre era straordinariamente intelligente e straordinariamente sensibile ma come tutti noi ignorante nel senso nobile della parola però appena aveva sentito parlare di Le Corbusier naturalmente si è entusiasmato per Gavina era troppo fare tutto quindi mio padre si è tenuto Le Corbusier ad un anno dalla firma del contratto Cassina i primi quattro arredi del sistema Equipement Interieur di un'abitazione sono pronti per il mercato è l'epoca d'oro del design milanese il catalogo che accompagna l'uscita della prima collezione LC è di Bob Nord uno dei maestri della grafica del Novecento i pezzi sono presentati nella sala espressioni dell'Ideal Standard spazio voluto da Gio Ponti molto legato a Cesare Cassina per Gio Ponti era Cesarino mio padre grande e grosso era il Cesarino mio padre nasce con Gio Ponti è lì che ha cominciato a capire il valore di quelli che sapevano l'azienda è madre del prodotto padre è il designer l'architetto e quindi mio padre è veramente il co-designer nel 68 Cassina apre il suo showroom in via Durini il progetto di allestimento salutato come molto innovativo è di Mario Bellini mi sono inventato una specie di doppia parete lunga come una manica in sostanza una galleria tutta foderata con un telo un po' traslucido li ho collocati lì dentro mettendo dietro un faro un proiettore che proiettava delle ombre cinesi perfettamente ritagliate e quindi ho messo questi mobili di Corbusier in un modo un po' iperbolico cioè non semplicemente come cose appoggiate ma anche come essenza come segno come simbolo ricordo ancora la grande festa di inaugurazione che si è fatta quella sera c'era quello che si chiama tutta Milano il negozio era totalmente pieno c'era la Vanoni che cantava la collezione ha ora un palcoscenico aperto al pubblico tra le sedute presentate c'è la LC2 le fauteuille grand confort di modèles il pezzo più venduto della storia un best seller del design il simbolo della collezione LC di Cassina una rivoluzione rispetto alle poltrone tradizionali e così ha preso questi oggetti li ha squarciati con un pugnale ha tirato fuori la struttura e ha buttato l'imbottitura dentro la struttura cosa che faceva con gli edifici e poi la chaise longue che è una cosa straordinaria perché è fatta di niente e in un colpo solo ti dà un'immagine che esprime il riposo l'attenzione la conversazione la semplicità di questa cosa che prende la storia alla rovescia cioè non dice che forma diamo alla chaise longue dice no cos'è l'essenza di questa chaise longue sono i mobili di Le Corbusier Pierre Jean Ray e Charlotte Perriand a dare via negli anni 70 alla collezione I maestri di Cassina a cui seguono quelli di Gerrit Thomas Ritveld Charles Renny McIntosh Eric Gunnar Asplund Frank Lloyd Wright Franco Albini e Charlotte Perriand l'intuizione di Cesare Cassina di aver dato vita a questo percorso trova poi a un certo punto nella consulenza scientifica di Filippo Allison grande professore di architettura degli interni e degli allestimenti e della storia del design un ottimo supporto di studio e di ricerca che ha accompagnato poi lo sviluppo la nascita e la formazione di questa importante raccolta dei maestri i mobili di Le Corbusier Perriand e Jean Ray i mobili di Le Corbusier Charlotte Perriand e Pierre Jean Ray sono delle icone essere un'icona è molto semplice bisogna avere un'ideologia molto forte e molto buona e quindi applicarla con il massimo rigore si può dunque pensare che l'icona divenga tale con il tempo sono la storia e il tempo che passa a dirci se un'icona esiste o meno possiamo considerare che il 90% dei mobili disegnati da Le Corbusier e i suoi amici sono icone senza tempo e assolutamente storiche dunque ci vuole semplicemente una vera visione un'etica una vera filosofia ostinazione molto coraggio e ammettere che probabilmente non si vedrà mai l'icona diventare di dominio pubblico e che forse lo diverrà per le generazioni future oggi la collezione LC è tra le più copiate ma non è facile replicare la qualità che viene oltre che dai disegni di Le Corbusier Pierre Jean Ray e Charlotte Perriand da decenni di esperienza dove convivono manualità artigiana e processo industriale sempre all'avanguardia i segreti delle lavorazioni servono a realizzare parti dei mobili dove ogni dettaglio ogni finitura è rigorosamente controllato e garantito come autentico un marchio fissa per sempre il numero progressivo di produzione il logo di Cassina e le firme dei tre autori a realizzare con La collaborazione con Charlotte Perian, che ha lavorato con Cassina dal 78 fino alla morte nel 99 per ampliare la collezione, è stata ed è un'ulteriore garanzia di qualità e autenticità, perché oggi il dialogo prosegue con gli eredi. Quello che lei ha molto apprezzato in Cassina è tutto il lavoro svolto in concertazione e la qualità dei mobili che ha potuto vedere, fare con loro. Lei apprezzava molto questo lavoro e naturalmente il know-how dell'azienda. Per lei era anche molto importante il fatto che Cassina difendesse l'autore. Oggi Cassina ha tra i suoi interlocutori, oltre che gli eredi di Charlotte Perian e di Pierre Jean Ray, la Fondation Le Corbusier. La Fondation ha sede alle Maisons Laroche e Jean Ray ed è nata dal desiderio di Le Corbusier di tutelare le sue opere architettoniche nel mondo e di conservare i suoi archivi. È in un angolo tranquillo di Parigi, la vista sui tetti, costruita dal Corbusier e Pierre Jean Ray negli anni 20 per l'amico collezionista Monsieur Raoul Laroche. Un manifesto per la sua architettura, un edificio a pianta libera, con le finestre a nastro, il tetto terrazzato. Di recente è stato ridipinto con i colori originali. I muri e il soffitto di questa casa sono stati dipinti con 18 colori diversi. Tre tipi di blu, tre di grigio, di terra di Siena, chiari e scuri, di terra d'Umbria e così via. Siamo in un'epoca dove il colore ha un'importanza fondamentale. Allo stesso modo, i mobili non erano rigidi e sinistri, ma comodi, colorati, morbidi. Le ricerche d'archivio hanno permesso di ritrovare i colori originali, rimanendo sempre fedeli al lavoro di Le Corbusier. È così che le strutture e i tessuti dei mobili della collezione LC per l'anniversario dei 50 anni sono proposti con nuovi abbinamenti e materiali innovativi. Nel corso degli anni, chiaramente, sono state fatte delle modifiche, perché cambiano le tecniche, cambia il tipo di produzione, possono cambiare i materiali, si possono fare delle ricerche. L'importante è che queste siano sempre compatibili con l'autore e per questo sicuramente collaboriamo con le fondazioni e gli eredi per non essere eccessivamente invasibili rispetto al prodotto disegnato all'origine. Rieditare dei mobili di design non è mai un'operazione nostalgica. Proiettare nel futuro i capolavori del passato significa capire quale oggetto ha la forza per diventare un classico, cioè, per dirla con Italo Calvino, qualcosa che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. È quello che Cassina ha fatto con la collezione L.C. Il classico è qualcosa che ha una qualità, ha una qualità, è timidale. Si sente che se vivi con la collezione, è qualcosa che si piacerebbe per un lungo, lungo tempo. Cesare Cassina fa un'operazione interessantissima e coraggiosa quando pensa di rieditare i pezzi di Le Corbusier, avendo anche l'occasione di poter coinvolgere lo stesso autore, ancora vivo, che verrà a mancare pochi mesi dopo. E quindi la sua riedizione è ancora un progetto che si evolve con lo stesso autore. Con l'operazione che inizia con Le Corbusier abbiamo un lavoro che è di una riedizione di qualità, che sa dare a questi oggetti che avevano lasciato un segno così profondo nella storia, ma che erano rimasti solo nelle immagini, invece di nuovo una nuova vita che entra nella produzione, ma soprattutto che entra nella qualità del progetto quotidiano. I mobili che Cassina ha fatto di recente non possono essere come gli originali, ma io trovo che siano delle buone ricostruzioni. È evidente che ci sono delle cose che non possono essere riprodotte. C'è una mano, un tocco, un'anima nei pezzi originali, che sono spesso molto più modesti delle ricostruzioni. A volte i nuovi Cassina sono realizzati meglio degli originali, che sono più fragili, più vissuti, non c'è paragone. E poi non ce ne sono a sufficienza perché tutti possono averli. Quindi è buona cosa che ci siano delle riedizioni. C'è lo spirito, c'è l'idea, il concetto, ma appartengono al mondo di oggi. Sono aspetti della vita contemporanea, ispirati a cose che in passato non erano così diffuse. Ci sono altri mobili di Le Corbusier entrati nella collezione in un tempo successivo. Sono quelli in legno disegnati dal solo Corbusier, utilizzando il modulor per accompagnare altri progetti architettonici. C'è ad esempio lo scrittoio che aveva pensato per le camere dei bambini nelle unité d'abitazione di Nantes-Rézé. E la table conference, disegnata nel 1958, disegnata su due figure geometriche contrapposte. Il cerchio in legno di rovere per il piano e il cubo in tubolari di metallo. La cosa incredibile che fa la differenza tra lui e tutto il resto è questa specie di quasi connessione animista tra il progettista e il materiale che adopera. Quando usa il legno, usa il legno. Tutto è controllato, costruito, studiato con questa spiritualità. Pensa a quelle specie di funghetti per appendere i vestiti, legno. Poteva fare un chiodo di legno, invece diventano queste micro architetture montate in una posizione assolutamente inaspettata. E ogni volta che ha usato i materiali le ha usate, secondo me, con una purezza assoluta. Abbiamo raccontato una storia di incontri che avvengono su e giù per l'Europa, molto in Italia e che attraversa un secolo. Vogliamo chiudere su un oggetto simbolo di questa avventura umana e imprenditoriale. Il più semplice in apparenza. Il tabouret, ispirato al concetto degli objets trouvés, cioè gli oggetti trovati casualmente. Proporzione pura, varie funzioni, da tavolino a sgabello. Disegnato nel 1952, è stato riproposto da Cassina solo da pochi anni. L'unico che si poteva spostare nel Cabanon di Le Corbusier. Io penso che quelli che si avvicinano a Le Corbusier e alla sua opera dovrebbero andare a vedere il Cabanon. La semplicità dei luoghi e dei mezzi, la modestia di quello che per alcuni fu il più grande architetto del ventesimo secolo, è interessante. Si accontentava di cose modeste, monacali. Il Cabanon è una cella da monaco. Penso che la qualità quasi morale del Cabanon mostri anche l'importanza dell'abitare per l'uomo. La sua preoccupazione era principalmente di natura umanista. Alla fine la sua vita se la gioca in una specie di container messo davanti al mare, ridotto tutto quanto al minimo. Noi pronipote abbiamo ancora tanto da scoprire, ancora tanto da imparare. C'è l'uomo dell'artista, c'è precisamente di essere diventato, creato, inventato e mettere al punto di tutte le risorse presenti nel tempo per allegere la pena degli uomini e soprattutto per apportare questi fattori essenziali che sono la gioia di vivere. Nel Cabanon non c'è la cucina. Perché le Corbusier andava a mangiare all'Etoile de Mer, il piccolo caffè proprio accanto al suo capanno. Oppure si sedeva sulla punta del promontorio a guardare il mare. Poi ritornava dentro a disegnare. E una volta al giorno andava a nuotare, con quella voglia di infinito che sa di incontri, ancora e ancora. Incontri che hanno dato eternità a segni e progetti diventati classici per sempre. Come ha raccontato il suo fotografo di fiducia a Lucien Hervé. E l'ultima foto sono le sue mani d'artista che reggono semplicemente un sasso. Quelle forme da cui, anch'io, diceva, ho molto da imparare. Era le Corbusier 50 anni fa. LC 50, oggi. LC 50, oggi. ,140 czy ora. PC 50, oggi. Grazie a tutti.